Caterina Bueno è stata una grande intellettuale, una grande artista e un grandissimo essere umano. È un pezzo di storia di questo paese, importante, di storie importanti di questo paese, è un pezzo di storia importante ancora di più della Toscana, di quella bellissima realtà lì. Un film su Caterina Bueno che rimetta insieme, un documentario su Caterina Bueno che rimetta insieme i pezzi della sua personalità e della grande bellezza che ha prodotto nel corso di decenni, è un'iniziativa commercialmente destinata al fallimento, ma di enorme valore culturale. Allora in un momento in cui il mercato, lo abbiamo capito, non ci dà più, se mai è successo, alcuna soddisfazione. Questo è il nostro campo, questo è il campo in cui ne dobbiamo mangiare adesso. Se si può fare una cosa intelligente e buona oggi è dare una mano a chi sta mettendo insieme questi pezzi per costruire questo documentario, per ridare a Caterina Bueno e alla sua relazione con la vita, con la Toscana e con l'Italia e col mondo tutto il peso che merita, che ha. E quindi io so che alcuni, più di qualcuno ha già provveduto a donare dei soldi per rendere possibile concretamente questa iniziativa. Io credo che sarebbe cosa buona se ciascuno di noi che mantiene e conserva questa sensibilità facesse la sua parte, desse una mano, perché qui la grande bellezza è nelle nostre mani e dipende da quel che riusciamo a fare per lei. È un'enorme soddisfazione poter dire l'ho fatto anch'io, è anche merito mio, se oggi è possibile raccontare una storia meravigliosa. Grazie a tutti.